Shabbat Shalom a tutti e benvenuti alla nostra parasha settimanale la parasha Beshlah che i nostri fratelli ebrei leggono in questo sabato dal capitolo 13 versetto 17 del libro dell'Esodo al capitolo 17 e in questa parasha la Torah ci racconta la miracolosa uscita dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il cantico di Miriam nella seconda parte invece ci viene narrato appunto dei primi episodi inerenti alla vita nel deserto del popolo di Israele in condizioni di libertà l'inizio della nostra porzione così comincia è quando il faraone lasciò andare il popolo questo Beshlah in effetti è più che lasciare andare ma anche letteralmente cacciare, mandare via quindi il faraone in un certo senso caccia il popolo di Israele perché poi lo perseguita fino al Mar Rosso perché appunto cova questa ostinazione contro il popolo ebraico i maestri ebrei spiegano che queste due fasi della redenzione, la redenzione dall'uscita dall'Egitto nella celebrazione della Pasqua e nel passaggio del Mar Rosso sono altre che due fasi nella ricerca della libertà da parte dell'uomo due stadi che corrispondono alle parashotte di Bo e di Beshlah e in parallelo ai primi e gli ultimi giorni di Pesach da un lato l'esodo dall'Egitto che avviene la prima sera di Pesach e dall'altro la spaccatura del Mar Rosso che avviene il settimo giorno della festa di Pesach è necessario dunque percorrere queste due fasi per ottenere la vera libertà proprio perché esistono due tipi di schiavitù il primo tipo di schiavitù è quello imposto da una forza esterna dalle catene che ci legano sia nel significato che emerge dalla Torah come in Egitto sia in senso metaforico il secondo invece è una schiavitù che scaturisce dalla persona stessa come quelle catene dalle quali essa stessa si lascia imprigionare cioè la collera, la presunzione, l'inerzia catene che legano appunto la persona se stessa così come appunto sono le catene del Faraone il Faraone continua invece a perseguitarci quello che incontriamo nel deserto effettivamente è lo stesso che abbiamo preso con noi uscendo dall'Egitto la stessa rabbia, la stessa collera che avevamo appunto quando eravamo schiavi se la riportano poi anche nel deserto siamo stati liberati dall'Egitto che ci teneva fisicamente prigionieri ma rimane ancora questo lavoro interiore di trascendere l'Egitto durante il deserto quell'Egitto che esiste ancora negli ebrei nel popolo ebraico cioè di uscire da queste ristrettezze allora ecco l'episodio del Mar Rosso per farciò dobbiamo aprire il mare aprire il mare il mar Yam Sof il mare delle limitazioni Sof significa limite non è proprio la traduzione esatto Mar Rosso ma è Yam Sof cioè il mare del finale il mare delle limitazioni quindi è necessario dal punto di vista spirituale aprire il mare penetrare le profondità per rivelar la nostra identità autentica adesso mi soffermo su quel passo della vita del popolo ebraico che appunto esodo 15 22 23 che appunto parla dell'acqua Mosè condusse Israele via dal Mar Rosso ed essi andarono nel deserto di Sur camminarono per tre giorni nel deserto e non trovarono acqua arrivarono a Mara ma non poterono bere l'acqua di Mara poiché era Mara per questo il posto è chiamato Mara dunque perché Dio avrebbe messo alla prova il popolo stanco e assetato rendendo Amara quell'acqua il termine acqua Maim ecco si riferisce alla come dicono i nostri maestri ebrei alla Torah i maestri della Mishnah insegnano En Maim e la Torah non c'è acqua senza la Torah e poi come non si vive per tre giorni consecutivi senza bere l'acqua così non si può vivere senza studiare la Torah l'acqua non potabile rifletteva un po' lo stato spirituale del popolo ebraico avevano perso il significato dei loro passi erano vuoti spiritualmente assetati quindi amari l'effetto fu che l'acqua era aspre e non potesse saziare la loro sete poiché non si trattava di disidratazione fisica ma era la loro anima a chiedere nutrimento come potevano riempire questo vuoto spirituale? semplice Dio mostrò a Mosè un pezzo di legno Mosè lo gettò nell'acqua adesso diventò dolce Esodo 15, 25 la Torah è chiamata l'albero della vita secondo Proverbi 3, 18 e allora è come se il Signore avesse detto a Mosè prendi una parte della Torah anche un piccolo pezzo un pensiero e butto nell'acqua sorseggialo assaporlo e applicalo nella vita di tutti i giorni e l'acqua diventerà dolce la tua anima sarà ristorata e la pace interiore restaurata e se applichiamo questo dal punto di vista cristiano questo passo ci rimanda a Gesù sulla croce che beve l'amarezza dell'aceto beve dunque quella sprezza che gli uomini gli porgono Gesù crocifisso albero di vita riesce a trasformare quelle acque imbevibili delle nostre paure delle nostre delusioni della nostra rassegnazione e della nostra rabbia in fonte trasparente in acqua viva che spegne la sete e l'arsura e inoltre ricordiamo ancora le lettere della parola maim la mem iniziale che appunto rappresenta la sorgente dell'acqua viva che scaturisce mettete l'apertura in basso che scaturisce per noi potremmo dire che è l'acqua viva dello spirito che ci proviene da Dio poi abbiamo lo yod che rappresenta il tetagramma e invocando il santo nome di Dio e la mem finale invece siamo noi la creatura che accoglie la grazia divina dello spirito accoglie di invocare il nome di Yeshua che salva e dunque la mem sofit che appunto rappresenta la pienezza dell'uomo riempito di Dio che riconosce il suo creatore e vive da figlio di Dio bene shalom a tutti alla prossima parasha Shabbat Shalom